Roma, alla fine Brigitte Nielsen è davvero incinta. Dopo la foto col pancione pubblicata qualche tempo fa dal suo account social, corredata dalla didascalia, la famiglia si sta allargando, in molti avevano messo in dubbio il fatto che aspettasse un bambino, ipotizzando una mossa pubblicitaria per far parlare di sé. Tutto però sembra essere confermato dalle numerose foto che l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Questo per Brigitte, 54 anni, sarebbe il quinto figlio, dopo quattro maschi nati da tre diverse relazioni, Julian Winding, Kylian Marcus Nielsen, Raul Ayrton Mayer Jr., Douglas Ehrenmayer. L'attuale marito è Mattia Dessi, 15 anni più giovane, conosciuto in un ristorante a Lugano.